In questa puntata del barpaco Vargo Travel Mag Wily X Spear Dual Lens Rogue Com La nuova custodia tattica E-Dry Sack E-Talon 33 litri Combat Tape o Emergency Blanket Buck Hunter Bushcraft Illustrato Duffel Sierra Nuova collezione Jack Daniels E ABR Training Facce di... Ciao, sono Paolo di Backpaco e anche oggi un pacco di novità E benvenuti al Barpaco l'appuntamento settimanale dove ogni venerdì mattina ci guardiamo insieme tutte le novità le iniziative e le promozioni di Backpaco.it Oggi di cose ne abbiamo davvero tante quindi non perdiamo altro tempo e dedichiamoci subito ai nuovi giocattoli Ma prima di lanciarci in questa nuova puntata beh, devo rispondere a Luigi che mi chiedeva come funziona il reso gratuito del reparto abbigliamento occhiali di Backpaco.it Beh, dovreste ormai saperlo tutti il reso è gratuito su Backpaco per tutti i capi di abbigliamento per tutti gli occhiali lo trovate scritto nella pagina del prodotto lo trovate lì evidenziato se quando vi arriva un articolo magari non è della vostra taglia non è preciso, non vi sta bene, non vi convince vi basta richiedere il reso e passerà il corriere a ritirare nella stessa confezione, nello stesso impacchettamento poi ci sono le istruzioni è tutto semplicissimo comunque ritirerà quello che non vi sta bene e a quel punto potrete decidere se magari prendere una taglia diversa magari la taglia che siete sicuri vi starà bene oppure richiedere un rimborso insomma siete liberissimi di fare come preferite bene, questo dovevo dirlo a Luigi me l'aveva chiesto adesso però dedichiamoci a tutto il resto oggi iniziamo con la Vargo Travel Mag da 450 ml è una tazza da viaggio una tazza da avventura con il manico ripiegabile in questo modo e tutta in titanio arriva con il suo sacchetto tra poco ve ne parlo ma la cosa che dobbiamo capire quando parliamo di Vargo è che non è lo stesso titanio che vediamo in giro su vari siti e di dubbia è diversa provenienza Vargo fa cose di titanio toste e sì perché basta dire titanio 62 grammi 450 ml è tosta ragazzi sappiamo già quante botte prenderà quante volte ci rotolerà a terra ma una buona tazza da viaggio una buona tazza da campeggio fatta in questo modo beh è fondamentale un po' per le avventure di chiunque a cosa serve una tazza di queste dimensioni? beh per cucinare forse è un po' piccola 450 ml vanno bene in pochi casi ma per scaldare l'acqua sul fuoco per preparare la colazione è perfetta ecco che una tazza in titanio funziona sia come bicchiere che come pentolino direttamente sul fuoco o su un fornello per permetterci di scaldare l'acqua arriva con il suo sacchetto sacchetto forato perché se è bagnata nello zaino la volete magari appendere diverse persone portano le tazze appese allo zaino io non lo faccio ma è una questione di abitudini è una questione di preferenze comunque è anche utile il sacchetto forse anche di più per inserire delle cosine qui dentro ad esempio zucchero bustine di tè quello che vi può servire olio, sare quello che vi piace e chiuderla in questo modo così il sacchetto e la tazza vi fanno da contenitore Vargo è un produttore di accessori in titanio per outdoor e specializzato ne vedremo sempre di più qui al barpacco già qualcosa la trovate su Backpacko.it e adesso dopo la bellissima accoglienza che avete riservato al marchio Wile X arrivato la settimana scorsa su Backpacko beh arriva proprio un altro modello un altro prodotto stavolta non tattico ma super tattico questi sono i Wile X Spear Dual Lens ma vediamo un attimo come sono fatti materiali robustissimi parliamo sempre di Wile X tutto super certificato tutto super protettivo ma qui andiamo anche oltre con la tecnologia intanto vi faccio vedere una cosa arrivano con una manica questa è una manica una custodia se volete una manichetta questa manichetta che arriva in dotazione serve proprio per proteggere gli occhiali quando non sono indossati quando non sono sugli occhi se ce l'ho in testa o sul casco in questo modo posso garantire una certa protezione rimovibili ovviamente le cinghiette questo stiamo parlando di Wile X quindi sono rimovibili anche perché potreste aver bisogno di montare le cinghiette per il casco tattico comunque le cinghiette disponibili sempre come tutti i pezzi di ricambio presto su Backpacko quindi se un domani la cinghietta si usura questo mi piace ricordarlo con Wile X si compra un sistema dove ogni componente è sostituibile ma parlando un po' di tutto non vi ho raccontato forse la cosa più interessante di questi occhiali ed è il sistema di lenti a doppio strato il modello che ho io arriva con diverse lenti e arriva in questo sacchetto qui da spedizione bellissimo ma ci sto girando intorno Dual Lens perché grande innovazione di questo modello è la disponibilità di una mascherina doppio strato quindi abbiamo una lente esterna questa arancione in questo caso è una lente trasparente interna che fanno un doppio strato tra i due c'è il vuoto questo ci permette di isolare termicamente quello che succede fuori dai nostri occhiali e quello che succede dentro questo fa sì che succede quello che succede sempre cioè si condensa questo vapore all'interno degli occhiali e non riusciamo più a vedere gli occhiali si appannano e cominciamo a dare di matto qui abbiamo un trattamento anti appannante ma la cosa più importante è questo doppio strato è la migliore protezione che possiamo avere ovviamente passare da una lente all'altra è un gioco da ragazzi uno può decidere anche di portarle tutte e poi cambiarle a seconda dell'ora del giorno a seconda dell'attività ecco se devo andare per esempio in quad in mezzo alla vegetazione vorrò sicuramente un paio di occhiali che sono in grado di proteggermi sia dagli impatti che dalla polvere che magari i miei amici davanti a me stanno alzando e mi darebbe comunque fastidio arrivando agli occhi sono compatibili con i visori notturni questo per gli operatori che hanno necessità del visore notturno ma anche per i giocatori più incalliti di soft air e dispongono di tutte le certificazioni di protezione di cui siamo abituati a trattare con Wilex le trovate su backpack.it manco a dirlo con tutte le istruzioni per godervi per bene i vostri occhiali e l'ultima cosa che mi resta da dirvi è che sì esiste un adattatore e un sistema per montare le vostre lenti si fa qui sotto in questo modo quindi se avete necessità delle lenti graduate potete semplicemente ordinare anche l'inserto per le lenti graduate portarlo dal vostro ottico e farvi realizzare le lenti che vi servono ovviamente i Wilex Spear dual lenses arrivano in colore tan o desert come vi piace e black nero io penso che ne terrò un paio proprio per le attività di quad fuoristrada dove voglio la massima protezione godermi però anche l'aria in faccia godermi tutto quello che è il bello di affrontare la natura a certe velocità e adesso veniamo a un altro modello di occhiali balistici sempre di Wilex sempre appena arrivato su backpack sono i rogue comb sono degli occhiali non troppo diversi da quelli che abbiamo visto settimana scorsa dai sabre che però hanno una particolarità se siete soliti indossare delle cuffie per l'attività di poligono o magari per lavoro perché siete in cantiere tutto il giorno eccetera potrebbe darvi fastidio la presenza delle astine troppo spesse beh la novità è questa astina molto molto sottile avere una astina così sottile e flessibile significa non sentirla dietro le orecchie rogue comb di Wilex anche per questi occhiali abbiamo a disposizione diversi kit questa è la loro custodia bellissima tra l'altro l'aggancio molle qui dietro compatibile sia con un cinturone che con appunto la fibbia passante nelle maglie pulse e troviamo una dotazione particolarmente ricca fascetta elastica un pannetto in microfibra per la pulizia delle lenti e vi ricordo che su backpacko.it trovate anche il kit Wilex per la pulizia approfondita e il trattamento anti appannante il kit che ho io adesso include tre lenti e abbiamo la lente nera che è quella montata poi una lente rust o arancione ecco la lente trasparente a brevissimo sarà disponibile il kit per montare le proprie lenti graduate all'interno dei rogue il nasello cosa fondamentale perché poi ci servirà per reggere tutti gli occhiali è gommato e regolabile e per esempio lui ha un naso di polistirolo quindi molto delicato e glielo appoggiamo così piano piano ecco come sta è talmente delicato che non ha distrutto il polistirolo grande gli piacciono molto quindi ne porta due paia non si sa mai così dice parlavamo di custodie per occhiali ed ecco spuntare la nuova custodia tattica di Wilex avere con sé un sistema per proteggere gli occhiali sempre è fondamentale e ve lo dice uno che ne ha distrutti una buona quantità prima di impararlo prima di rassegnarsi in qualche modo e dotarsi di una buona custodia come è fatta una buona custodia tattica per gli occhiali beh inutile dirlo deve avere un sistema molle un sistema di aggancio per i pannelli pulse che ci serve proprio per bloccarla eventualmente esternamente ad uno zaino un cinturone eccetera qui abbiamo una pannellatura pulse addirittura davanti per un eventuale piccolo pouch una torcetta o qualcosa e in regalo possiamo dire una Wilex patch che potete magari agganciare in altre zone e qui ci sistemate quello che vi pare o lasciate il loghetto in questo modo le cerniere devono chiaramente essere scorrevoli questa è una buona custodia quindi le cerniere devono fare questo ragazzi deve essere un piacere accedere ai propri occhiali e all'interno beh io ci ho sistemato i miei Saber Advanced ma ci sta bene qualsiasi tipo di occhiali e non solo avete tutta una serie di scomparti scompartini per le lenti gli adattatori tutto quello che potreste volere insieme ai vostri occhiali ve li sistemate per bene e si chiude un po' a guscio cioè avete la protezione da una parte e dall'altra imbottita quando gli occhiali non ci sono me la chiudete così e vedete che si appiattisce completamente e sparisce dalla vostra sagoma una caratteristica fondamentale di questa pouch andiamo un po' sul tecnico è che è studiata per rendere accessibili i vostri occhiali con una sola mano proprio perché potremmo trovarci con l'arma o comunque a fare qualcosa che preclude l'uso di due mani allora devo poter aprirla e inforcare subito i miei occhiali tactical pouch di Wilex disponibile su backpack.it se volete organizzare ancora più tatticamente il vostro comparto occhiali buone avventure con la tactical pouch ma ecco l'accessorio perfetto per tutte le nostre avventure da osprey i dry sack queste dry bag o più in generale queste borse impermeabili a che servono? beh sono innanzitutto impermeabili e questo vuol dire davvero tanto è un'ottima idea quella di chiudere tutto l'equipaggiamento sensibile in sacche come questa le trovate su backpack di tutti i colori e di tutte le dimensioni le uso da una vita e sono sempre più contento di averle con me come funzionano? beh sono dei sacchi in nylon micro ripstop quindi sono dei sacchi molto tosti che non si danneggiano facilmente questo è chiaramente importante questo è il mio dry sack da 20 litri ed è pieno solo di aria si sistemano in questo modo hanno una clip ora vi faccio vedere tutto un anellino per agganciarli se vi serve beh si sistemano facilmente qui vedete la scritta 20 litri e il fatto che è completamente vuoto ecco il mio dry sack completamente vuoto ah se doveste trovarvi che poi lo sporcate perché il cibo vi perde ragazzi si rigira e si lava e sono notati anche di una fettuccia ad anello sul fondo per bloccare eventuali altri accessori o per agganciarlo testa in giù come vi pare qui c'è una zona semi rigida che favorisce la chiusura vi faccio un attimo vedere come io lo gonfio d'aria adesso non c'ho niente da sistemarci quindi permettetemi lo chiudo così e inizio a rigirare quando ho finito di rigirare il bordo abbastanza direi che ci siamo lo blocco in questo modo e vedete ho anche un modo per portarlo eventualmente a mano e neanche al dirlo ragazzi ottimo cuscino per dormire durante i camping arrivano di diverse dimensioni e diversi colori anche per facilitare l'individuazione dell'equipaggiamento io ad esempio quasi sempre questa arancione la dedico al cibo quella verde al cambio o cose del genere poi mi scordo e faccio un po' di danni però se siete più bravi di me avete il vostro codice dei colori ben fatto sarà più facile organizzare il vostro zaino e cresce la famiglia Talon di Osprey su Backpacko.it con nuovi modelli e nuove dimensioni questo è il 33 litri Talon 33 litri vi ricordo che è uno zainetto da trekking davvero formidabile è uno zaino leggero è uno zaino organizzabile che è pensato per chi cammina ed è buona cosa iniziare proprio dallo schienale quando parliamo di uno zaino fatto per camminare lo schienale ci starà sempre addosso quindi deve essere fatto bene è comodo è performante ed è in grado di assecondare i nostri movimenti questo accessorio che vedete qui è riportato anche da questa grafica è dedicato a riporre i bastoncini da trekking abbiamo da entrambi i lati dei taschini molto capienti qui ci stanno benissimo degli snack dei kit per mangiare qui dietro tra lo zaino e lo schienale c'è la cinghietta per la sacca di idratazione zip tutte avvantaggiate dal sistema o spray su entrambi i lati grande tasca per le borracce andiamo a vedere come è fatto apriamo il coperchio e subito troviamo anche all'interno del coperchio una nuova zona per piccoli oggetti tasca retinata la tasca frontale questa che vedete qui elastica perfetta per la giacca a vento l'interno dello zaino è accessibile dalla parte superiore qui ragazzi lo vedete da soli c'è tutto lo spazio che serve è davvero tantissima roba questo zaino che avendo a disposizione un'ottima escursione delle fibbie guardate quanta roba lo blocco fino a qui sopra quindi sì 33 litri di capacità il talon 33 litri di osprei è disponibile in diverse colorazioni e diverse misure tutte su backpacko.it con la guida alla scelta della taglia e adesso talon 36 e tempest 34 di osprei perché ci sono due zaini qui con me perché uno è la versione maschile mentre l'altro è quello femminile vedremo questi zaini approfonditamente in una recensione dedicata per il momento vi basti sapere che trovate tutti i dettagli su backpacko.it è che il tempest è la versione femminile del talon perché esiste una versione femminile dello zaino direte voi per i colori no non è così maschi e femmine hanno una conformazione diversa del proprio corpo e quindi hanno necessità diverse per un porto comodo del carico osprei lo sa e fa una versione femminile una versione maschile quasi di tutti gli zaini una donna a cui piace fare trekking a cui piacciono le avventure potrà scegliere il tempest e avere uno zaino che si conforma meglio alla sua fisicità un uomo sceglierà invece il talon questo perché il busto di un uomo è diverso da quello di una donna e quindi sarà più comodo avere uno zaino pensato specificatamente per questo quando ci muoviamo sulla dimensione 36 34 insomma questa dimensione qui troviamo un telaio metallico rigido all'interno dello zaino per tenere lo schienare fermo e il carico a posto ora li vedete super compressi qui ma sono zaini molto capienti a presto una recensione completa momento med pacco il nostro reparto tutto medico apriamo il nostro fat pack di Wanquest per scoprire la sorpresa di oggi beh sapete che da poco è arrivato Rhino Rescue su back pacco trovate un sacco di presidi medici di ottima qualità a prezzi mai visti prima e oggi voglio parlarvi di due cose molto importanti due ottime dotazioni una è il combat tape buono un po' per tutto tra un po' lo vediamo e l'altra la copertina termica ad emergenza metallina o emergency blanket se vogliamo fare gli anglofoni beh cominciamo proprio da questo oggettino che non dovrebbe mai mancare in nessun kit medico in nessun IFAC chiamatelo come vi pare perché è così importante beh non sta a me spiegarvi queste cose ci sono ottimi corsi lì fuori li trovate sulle pagine di med pacco io volevo soltanto dirvi che con una di queste beh non pensa niente non occupa nessuno spazio salvate una vita beh questo è un foglio di plastica che da un lato è argentato e questo permette ora non la aprirò tutta perché poi è impossibile ripiegarla come si deve ma posso farvi vedere che da una parte è tutta argentata perché è argentata beh per riflettere il nostro calore in una condizione di particolare freddo avvolgerci all'interno di questa copertina ci aiuta a passare la notte se poi abbiamo solo una candelina d'emergenza come quella disponibile su backpack o di Exotalk beh lì sì che riusciamo ad avere anche un po' di calore e a trattenerlo ragazzi questi sono 160 cm per 2,10 m non costa niente ho fatto di tutto per portarvela alle migliori condizioni perché questo è un presidio che salva la vita vediamo poi ad un altro presidio davvero molto intuitivo si tratta di un nastro telato beh qui c'è l'apertura facilitata vedete che già ci rimane un lembo per fare magari se vi piace questa cosa qui io di solito lo faccio perché potrebbe essere necessario tirare subito un pezzo di nastro la cosa bella del nastro telato neanche a dirlo è questo qui e io adoro questa operazione il nastro telato è quello che vi permette di gestirlo con tutta comodità con le mani a seconda delle vostre necessità vedete si strappa senza problemi ora me lo attacco qui al bancone del barpacco ottimo collante funziona benissimo sia come collante che in trazione una delle cose importanti del nastro americano è proprio la sua resistenza in trazione se poi lo dobbiamo utilizzare per steccarci due dita per bloccare ecco ora non voglio strapparmi i peli che fa malissimo però immaginate anche di usarlo come cerotto no non come cerotto per i sequestri cosa avete capito è vero che è anche utilizzato molto per quello ma io parlo proprio della possibilità ecco lo faccio per voi di fasciare una mano in questo modo con il nastro americano poi però vi tenete tutto il male del mondo quando dovrete ahhh fare così su medpacco.it sul nostro reparto tutto medico trovate tutti i presidi di Rhino Rescue e di molti altri marchi pronti per organizzare il vostro kit di primo soccorso ricordatevi solo che la cosa più importante è la formazione e nell'ultimo numero di Coltelli Magazine l'amico Alfredo Doricchi ha pubblicato un articolo bellissimo sul Buck Hunter è un coltello che ha fatto la storia eccolo qui disponibile su Backpack beh nasce come coltello chiudibile ad uso caccia ad uso outdoor beh ci si fanno un po' di cose con un Buck Hunter il profilo della punta è diverso da tutti i coltelli che abbiamo visto su Backpack si chiama Clip Point vedete azionato qui dietro va sbloccato in questo modo e poi richiuso il Buck Hunter 110 arriva in due modelli su Backpack e la differenza è nella profilatura del manico questo è quello classico con la profilatura del manico liscio mentre quest'altro a qui vedete degli alloggiamenti per le dita ogni Buck arriva nella sua confezione con il suo fodero in dotazione e qualora la versione 110 vi sembra un po' troppo grande esiste la versione Ranger 112 qui il disegno della lama si ripete abbiamo sempre due profilature una ergonomica e una liscia sempre dotati di fodero dedicato che vi arriva con il nuovo coltellone e vi voglio far vedere anche magari ecco la differenza di dimensioni tra i due è sempre un Buck questa volta però è più corto perché è nato un modello più corto beh c'è una storia dietro che vale la pena di raccontare e ha a che fare con alcuni marinai litigiosi che erano facili di coltello estraevano il loro Buck Hunter 110 e allora per farla breve hanno fatto in modo che non portassero questo tipo di coltello così lungo così pericoloso ma invece questo piccolo coltellino che alla fine sembra è molto pericoloso comunque problemi della marina statunitense perché in Italia le regole per il porto del coltello sono totalmente diverse e le trovate su una puntata dedicata del Backpackocast il podcast degli avventurieri ve le lascio qui in descrizione perché è molto importante quando si parla di coltelli sapere anche come portarli quando portarli per goderceli a pieno diamo il benvenuto intanto al Buck 110 Hunter e al Buck 112 Ranger nella loro versione liscia o ergonomica a voi quale piace di più scrivetemelo nei commenti e l'amico Luciano Cicchelli ha finalmente completato la traduzione di Bushcraft illustrato questo non è solo un libro non è solo tanta informazione ma Luciano ha fatto in modo che arrivasse in italiano per noi un capolavoro voglio farvi vedere qualcosa perché c'è tutto qui qui c'è come si affila il coltello come si affila e mantiene l'accetta come si costruiscono le seghe ragazzi cosa vi devo dire i nodi però è tutto illustrato è un amore questo libro da sfogliare è davvero bellissime sono le illustrazioni e le descrizioni accuratissime da un appassionato di Bushcraft come Luciano non poteva essere diversamente non vedo l'ora di finirlo ma ragazzi Dave Canterbury con la traduzione di Luciano questo libro è una garanzia ma potete averlo anche direttamente da Luciano in un'edizione speciale perché conterrà la sua dedica ed è bellissima questa cosa di avere la possibilità di ordinarlo direttamente da lui e con tutti i libri di Canterbury che ordinate da Luciano beh vi arriva anche un bellissimo gadget segnalibro di Backpack quindi non perdetevi questa edizione di Bushcraft illustrato fantastico per l'estate fantastico per provare in campeggio un sacco di trucchetti è davvero un libro imperdibile e grazie ancora a Luciano che ce l'ha portato in Italia e con le ferie ormai alle porte siamo pronti tutti a partire siamo pronti alle nostre avventure ok va bene lo zaino e tutti gli accessori ma ci serve anche qualche borsa eccone una di 511 Duffel Sierra arriva in questo borsello in nylon che è comodo sia per riporre la borsa quando non la usate che da utilizzare come sacchetto interno della borsa stessa dai vediamo come è fatta quella che vi mostro in colorazione python poi ce ne sono di diversi tipi nonostante sia piccolina e compatta è piena di caratteristiche vi mostro quelle esterne pannellatura pulse per agganciare accessori molle maniglione per tirarla via dal bagagliaio su questo lato il lato dell'apertura troviamo una pannellatura sempre pulse con velcro su cui possiamo applicare anche un tag name disponibili quelli di 511 sempre su backpacko.it tasca velcrata non c'è bisogno che ve lo spiego ovvero per il porto culto della pistola apertura a conchiglia così a strappo vi arriva nella borsa anche la cinghia tracolla che si blocca con questi ganci a D su entrambi i lati quando avete finito di utilizzarla la richiudete come vi pare la richiudete un pochino così e non dovete fare altro che ripiegarla su se stessa in questo modo qui e poi inserirla nella borsetta che vi è arrivata in dotazione Rapid Duffel Sierra di 511 disponibile adesso su backpacko.it e con Zippo oggi diamo il benvenuto alla nuova collezione Jack Daniels esiste da anni una collaborazione strettissima tra Zippo e Jack Daniels quindi escono sempre nuovi accendini quello che vediamo oggi è un accendino completamente nero opaco con una bellissima illustrazione della bottiglia di Jack beh abbiamo il classico inserto Zippo a benzina ma sono disponibili su backpacko come al solito tutti gli inserti alternativi quindi se siete fumatori di sigari o volete quello elettronico o volete semplicemente dei ricambi per il vostro Zippo a benzina li trovate disponibili nella pagina del prodotto dove potrete guardare anche tutta la collezione Zippo di backpacko compresa la nuova collezione di modelli in collaborazione con Jack Daniels e Make It Count fa in modo che ne valga la pena d'altronde bere responsabilmente non significa bere poco ma bere bene giusto? e sì ragazzi una nuova collezione di calzini di 5.11 molto corti questi della serie ABR Training quindi Always Be Ready Training cioè allenamento sono calzini per l'azione una tecnologia estremamente innovativa con degli inserti in rame per il controllo dei cattivi odori quindi non solo un calzino bello non solo un calzino comodo ma anche performante in termini di tenuta della carica batterica è rinforzato nei punti dove deve esserlo tallone punta e zona plantare qui assolutamente importante anche che tutto il ponte sia estremamente traspirante tutto il calzino agisce poi per capillarità assorbendo il sudore e portandolo verso l'esterno mi piace tantissimo anche questa questo flap per tirarli un po' su io vi consiglio di portarvene a casa un paio di iniziare a provarli e vedrete che non potrete farne a meno provateli e fatemi sapere e voleva mancare proprio oggi il patch di no certo che no 5.11 con questa fantastica patch di un lupo super neon super bello ecco se siete dei tipi low profile gray man che non vogliono dare nell'occhio evitate questa patch perché vi farà notare ma oggi ragazzi sono un po' impacciato perché sono arrivate centinaia di patch di 5.11 letteralmente centinaia ve le farò vedere un po' alla volta intanto date un'occhiata le trovate tutte già disponibili su backpacko.it io le trovo fantastiche poi ce le guardiamo con calma ma sono tutte già disponibili insieme ad una collezione infinita di patch di maxpedition vanquist e potete personalizzare il vostro equipaggiamento con tutto quello che vi piace andate nella sezione patch di backpacko.it non sarete più quelli di prima ce le vedremo per bene nei prossimi barpacchi ma nel frattempo sono già disponibili per voi ragazzi questa puntata del barpacco finisce qui io vi ringrazio per essere stati con me vi ringrazio perché preferite il backpacko grazie davvero per la vostra amicizia grazie per tutti i messaggi per tutte le volte che abbiamo occasione di parlare discutere un po' insieme di quello che ci piace per il momento vi saluto e vi ricordo di schiacciare mi piace iscrivervi al canale premere la campanella fare tutte quelle cose lì ma soprattutto di condividere questo video con gli amici perché non ne abbiamo mai abbastanza alla prossima ragazzi grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.